Salve ragazzi e bentornati con un nuovissimo video molto molto speciale Sono in compagnia quest'oggi di Golden Mary Devi sapere, Mari, che sono usciti dei giochi per la Playstation 4 veramente molto fighi Si chiamano Playlink Qual è la cosa figa di questi giochi? È che giochi utilizzando come controller il cellulare Ed è una figata Bellissimo Devi fare tipo i quiz e rispondere alle domande da qua Poi foto, tutte robe strane Ed oggi voglio provare un gioco con te Voglio fare un gioco con te Ci sono vari giochi molto divertenti da fare in società, in compagnia di amici, con la famiglia, con il fidanzato, con chi ti pare Oggi giocheremo a sapere e potere uno dei miei preferiti In sostanza è un quiz in cui dovremmo rispondere a delle domande ma non è così semplice Chi perderà sai che cosa farà? Non voglio immaginarlo Te lo faccio vedere Chi perde si mangia questa bellissima cipolla a morsi Mi raccomando ragazzi lasciate un bel pollicione in su e raggiungiamo i... Eh, cazzo mi guarda questa domanda Senti, dimmelo tu Facciamo 10.000 mi piace ragazzi e vi porto un altro video di questo tipo Quindi sotto a spolliciare mi raccomando Senza di me però eh No Magliete pure un pesoncino Beh, fare la tua vendetta perché oggi vincerò io ovviamente Sì, sarei schiacciato Sì, sì Vedremo Va bene a questo punto direi che possiamo cominciare con il quiz Via! Bene, eccoci qua Prendiamo i nostri cellulari in mano A questo punto è il momento di cliccare su gioca Inserisci il tuo nome Ok Mari Io metto tipo Golden Boo Golden Boo Tipo un fantasma Ah, scegli un personaggio Figo Mi piace Allora No, questo con lo dog è pavoloso Io voglio quello con lo dog No, ma che è sta roba? Cioè, devo scattarvi un selfie? Spettacolare Allora, così Bene, io ho fatto il mio selfie Golden Boo Sono pronto 3, 2, 1 Via! Si comincia con il quiz E chi è questo? Salve! Ah, cazzo Salve! Fabrizio Frizzi, guarda Il conduttore di sapere e potere Intanto scrivete nei commenti secondo voi chi vincerà dei due Questo è il mio personaggio Guarda che bello Guarda la mia foto Bellissimo Io sono un hot dog oggi Fantastico Tu invece? Ah, ma Ma che cavolo Guarda che bellissimo Ma è un maschio Quello che pensavo fosse Certo, pure tu che foto hai fatto Ti potevi impegnare un po' di più Che bello che è Bene, sapere e potere Sei pronta Mari? La sfida sta per cominciare Prontissima Benvenuti alle porte della selezione Sceglitene una per iniziare il vostro viaggio Allora, scegliamo una categoria Il mondo di oggi Va, vediamo che succede No, non dovevo dirtela Non lo so neanche quello che ho scelto Il mondo di oggi Ah, ha vinto la mia Noi Ma non l'avevo A parte abbiamo scelto tutti della stessa Non è vero Ok Non è vero Si parte con la prima domanda Mari Concentrarmi Nella cucina di quale nazione si trovano il Kaopad e il Tom Kakai Il Tom Kakai Io lo so, io lo so Allora, sì secondo me è questa Sì Ok, che cosa mi arriverà Ma che mi hai lanciato? Il vele Ma che è? Ma che cavolo Ma è sporcato tutto Adesso lo dog è diventato alla maionese Non è maionese Io ti ho ghiacciato Così ti impari Oh, c'è una foto Quale nazione attraversano questi ribelli motocicleti? Io vedo dal casco là È un po' un indizio quel casco Con la bandiera americana Io devo togliere Tutta la roba State vedi Ho cliccato prima io Fregata Ma non vuole che mi ricopi le risposte Ma non ho ricopiato Ho cliccato prima di te Eh dai Vabbè Mari però non mi puoi ricopiare le risposte Ma non ti ho ricopiato Senti Adesso ho fatto Sulla Thailandia che ne sapevi tu Ah, sto vincendo io Che ti lancio stavolta? Stavolta sono cattivo Preparati Oh, anche io carissimo Beccate Che mi hai lanciato tu? Beccate sti batteria Beccate sti batteria Beccate sti batteria No Ma ti assomiglia a quella là Lo sai? Allora Qual è il titolo del film Del 1985 Di John Hughes In cui 5 studenti Trascorrono per punizione A me è tutto zozzo Non leggo le parole Secondo me è questa Sinceramente non lo so Guarda Se tu hai avuto fortuna Tu nemmeno la sapevi Vediamo Vediamo È anche tua No Sì Sì Che culo Non vale Ah, una nuova porta Una porta Che è? Succede qualcosa di particolare Oh, ma che cavolo è sta roba? Collega le parole in modo da formare titoli di film Quanto imbatto? Io sono pronto, eh Cellulare in mano, bene Oscuro Il Cavaliere Oscuro Ah, no, io non lo devo dire Perché sennò poi tu mi ricopi No Annaggia Io non riesco a mettere niente Né che io Ok, ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ok, delle viole Vediamo un po', vediamo un po' Oh Ma ti ho stracciato di brutto Passa in vantaggio Sono ancora finita Sono in vantaggio Qualche domanda dopo Gold & Mary passa incredibilmente in vantaggio Ma Jumpy non demorde Perché sa che c'è ancora qualche domanda prima della fine E sì Può farcela Che dei due mangerà la cipolla? Beh, scopriamolo Ecco la domanda Quale videogioco fece sparire le monete da 100 yen Quando uscì nelle sale giochi? Vabbè, io nei videogiochi sono più... Più abile però Questo Questo sicuro al 100% No, pure Pac-Ban c'era No Ti prego Space Invaders Ti prego Sì 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 E passa in vantaggio Mari, sento la puzza di cipolla provenire dal tuo alito Che mestiere fa Super Mario? Questa la so Questa... No, no, non ci provà Non so Ecco, fatto, 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 fatto Dai, l'ho stravinta io, su Speriamo L'elettricista Super Mario l'elettricista Non vedevo niente Super Mario l'elettricista Ma non si vedeva niente L'elettricista Super Mario Ma riesci da questa casa Abbiamo finito praticamente Che cosa succede adesso? E se siamo agli sgoccioli Le domande sono finite È la finale Chi arriva per primo in cima alla piramide Batterie, ghiaccio, bomba Rapidi sarete a rispondere Più scalini salirete Il primo che arriva in cima Vincerà Non voglio essere offensivo Ma volete veramente permettere a un uomo vestito da hot dog Di vincere questo Non lo voglio, no L'hot dog vincerà Ma c'è, quindi A tu sempre Chi risponde per primo sale di più, capito? Ho capito Come si chiama il corpo di un aeroplano Eccola Eccola Ce l'ho, ce l'ho Ho premuto prima io Ma io non lo so qual era Dove sei? In quale paese un europeo si trova il corpo di Rotterdam? Ok, io provo Ah, ci ho toccato Mari, mi dispiace Ho capito, ma io c'avevo tutto l'amito sopra Non dimenticate Ho praticamente Ma guarda tu stai Tieni, tieni Tieni, te la comincio a prendere questa cipolla Quale cibo orientale esiste nelle varianti del donor e dello shish? Ma che shish? Ma ti avrete? Oh, ma che cavolo Secondo me questo No Sì E dai E vince E va a vincere Lo dog vince Yeah Uno dog sul polio non si può vedere Oh, vincitore Ebbene, ebbene Che cosa significa questo? Io m'avevo andare in palestra, però Tu non fai palestra, ma Che faccio? Io oggi mi sono sbagliata in palestra Io tome la non so crosta Io c'ho da fare, adesso c'ho da Sono una cosa urgente da fare Bene, bene, bene È arrivato il momento della verità, Mari, bene È la buccia e va tolta No, no, tu devi dare un morso Non ti dico di ingogliere la cipolla Però almeno masticarla per 5 secondi o devi fare Masticarla è petto Almeno mangio una seconda Un morso secco e poi la sputichi No, ma questa è la buccia, scusa Però mi sono Tre, dai Senti, siccome tu hai perso Non ci provà Non ci provà proprio Io ho vinto Vai Sì, ma hai perso Mari che sputichi Mario, un morso Un morso Mastichi 5 secondi e la sputi 3 2 1 Vai, vai Che cos'è Oh, fai mastica Che schifo 1 2 3 1 4 4 5 Ah, dai, l'altro posto Se ti piace così tanto È un po' Un po' Oddio, che puzza Mamma mia Vattene Che puzza Va bene ragazzi E quindi siamo giunti al termine di questo folle video Spero davvero che mi sia piaciuto Mangiate cipolle di Trovea Perché sono squisite Veramente Oddio, non lo farei Fossi in voi Quindi lasciate una marea di pollicioni in su ragazzi Raggiungiamo 10.000 mi piace Per un altro video di questo genere E Mari, ti è piaciuta la cipolla? Sì, la prossima volta ti faccio mangiare un peperuccino intero Tu lo mangerai perché io vincerò di nuovo Non credo Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video Provate questi giochi ragazzi perché sono fantastici Questi giochi Play Link per PlayStation 4 E niente, noi ci vediamo alla prossima Un salutone e ciao a tutti Bye Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti